Gerardina Trovato è tornata sotto i riflettori grazie a un video diventato virale su TikTok dopo un lungo periodo di silenzio. La cantautrice siciliana, che ha ringraziato il suo pubblico chiedendo ai follower di non abbandonarla, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto in una recente intervista a Libera la musica, rivelando un'amara delusione, il rapporto incrinato con Andrea Bocelli. Gerardina ha spiegato come, all'inizio della carriera di Bocelli, sia stata proprio lei a dargli una mano, portandolo con sé durante i suoi tour teatrali. Andrea faceva da supporter nei miei concerti. Nel 1994 lui era tra le nuove voci a Sanremo, mentre io ero tra i big, ha raccontato la cantautrice. Lo accompagnavo ovunque, aiutandolo in ogni momento, anche di notte quando aveva bisogno. Devo dire però che lui ricambiava portandomi i bagagli, anche se questo lo faceva camminare un po' sbilenco. Ricordatevi di supportarci con un like, noi ci teniamo. Grazie! Con il passare degli anni, però, le cose sono cambiate drasticamente. Purtroppo con Andrea i rapporti si sono raffreddati. Ora non risponde nemmeno più alle mie chiamate. E questo mi ha ferita profondamente, ha confessato Gerardina. Nel 1994 i due avevano duettato nel celebre brano Vivere, una collaborazione nata quasi per caso in sala d'incisione. Il brano non nasce come duetto, ma il produttore ha pensato di aggiungere una voce, e la scelta è caduta su Andrea, ha spiegato l'ha trovato. Gerardina ha poi lanciato una frecciatina a Bocelli, ricordando un episodio a Hollywood. Andrea ha cantato Vivere, portando con sé Laura Pausini. Dopo l'esibizione, Laura è tornata in albergo, mentre lui ha messo la mano nel cemento dei vivi. Rimani con noi per tutte le novità iscrivendoti al canale. Attiva le notifiche.